Sì, io sono Valfredo, il figlio di Stefano Il Nostromo, che era figlio di Francesco, detto chicchetto, che era figlio di Nicola, che era figlio di Gaetano e che era figlio di Agostino. E all'inizio del Settecento, con una barchetta, un guzzo, da Riva Trigoso si spostarono a Isola del Giglio e da lì a Porto Santo Stefano, dove ho fatto i miei primi anni di gioventù, prima di andare a Livorno. Senza di loro io non ci sarei e l'universo sarebbe diverso. Se prendo un cannocchiale e guardo i miei piedi, sono al teatro della bicchieraia, ma adesso mi allontano e sono su Arezzo e mi allontano e sono sull'Italia e mi allontano e sono sulla terra e mi allontano e sono attorno al sole. E poi mi allontano e sono vicino ad Alfa del Centauro e sono in un braccio di un ammasso di galassie che si chiama Via Lattea e il sole gira con tutti i suoi pianeti attorno a questa galassia e questa galassia non è sola, ma gira assieme ad altre e con il nostro cannocchiale, se guardiamo, siamo a 14 miliardi di anni e la materia che la comprende, la luce che noi vediamo è la luce di 14 miliardi di anni fa, 14 miliardi di anni e se guardiamo quel momento, quel momento è nascosto da un muro e questo muro si chiama il muro di Planck e ci dice che cosa è successo dopo alcune frazioni di secondi dal momento nel quale tutto è cominciato il Big Bang. Ma inverto il mio cannocchiale e guardo i piedi e suono delle dita e guardo ancora e trovo della pelle, dei muscoli e trovo delle molecole e continuo ancora e trovo degli atomi e continuo ancora e trovo delle particelle. 14 miliardi di anni fa queste sono nate e sono le stesse dell'estremo periferia dell'universo e senza di me questo universo sarebbe diverso, eppure esiste nella sua Costituzione da 14 miliardi di anni e questo è un fatto. E' scontato? Non è così scontato. Noi siamo la prima generazione che riesce a guardare nell'universo fino al momento in cui questo è nato e possiamo guardare nel tempo fino a quando questo è nato. e noi possiamo oggi farlo con i nostri stupidi utensili che sono questi telefoni con questi calcolatori e siamo la prima generazione che può essere nello stesso tempo dappertutto e questo è grande. C'è una schiera nutrita di giovani, vedo in fondo. Perché? Chi era Cristoforo Colombo? Cristoforo Colombo era una domanda che mi hanno fatto dei bambini degli elementari alla NASA per una trasmissione che fanno sull'esplorazione spaziale. Perché non spieghi a questi bambini? Come mai si fa l'esplorazione dello spazio? Che senso ha andare nello spazio? E allora chiesi. Voi sapete che io sono italiano? Ditemi il nome di qualche italiano famoso. E subito venne fuori Cristoforo Colombo. Bene, chi era Cristoforo Colombo? Cristoforo Colombo era un grande navigatore. Cristoforo Colombo era un nuovo lisse. Cristoforo Colombo gli disse che ha scoperto l'America perché ai suoi tempi non c'era il frigorifero. Wow! Che c'entra? Cosa vuoi dire? Voglio dire che Cristoforo Colombo cercava le spezie perché le spezie erano fondamentali per mantenere il cibo. Ma la tecnologia del freddo non c'era e quindi Cristoforo Colombo andò sbagliando in America ma cercava le spezie perché ai suoi tempi non c'era la tecnologia del freddo. Non c'era il frigorifero. Banale. Banale ma è così. È così sempre. Ho sentito oggi uomini di scienza. Bellissimo. Bellissime presentazioni e ho sentito dei tecnologi. Bellissime presentazioni. Ma lo scienziato segue i sentieri del possibile. Il tecnologo segue i sentieri del fattibile. Il fatto che io venga da delle vie del mare e mi spinga nelle vie del cielo mi aiuta a capire dove le vie del possibile percorse degli scienziati possono incontrarsi con le vie del fattibile percorse dai tecnologi. Io sono un tecnologo e mi occupo di spazio. La mia azienda si occupa di spazio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che andremo su Marte? Certamente sì. Non abbiamo scampo. Da qualche altra parte fra 4 miliardi di anni, da qualche altra parte dovremo essere andati. E quindi dobbiamo pur cominciare. Dobbiamo cominciare con la Luna, continueremo con Marte e poi forse la fisica fra 100, 200, 500 anni. Ci mostrerà le brame, le linee sottili che mettono in comunicazione il nostro universo con un altro universo. Ma intanto andiamo a cercare le spezie e le cerchiamo su Marte. Ma andare su Marte è possibile? È possibile. Siamo bravi. Siamo capaci di farlo. Siamo capaci davvero di farlo. Abbiamo le tecnologie ma abbiamo un piccolo problema. che gli astronauti che mandiamo su Marte vogliamo che ritornino a terra vivi. Vi ricordo l'annuncio che John Fitzgerald Kennedy dette nel 1961. E io vi prometto che entro la fine di questa decade gli Stati Uniti d'America invieranno degli astronauti sulla Luna e li riporteranno indietro, safely, sicuri. E questo è quello che hanno fatto. Allora occorre spingerci oltre quella frontiera. Intanto però dobbiamo convivere con un problema. Se vogliamo andare su Marte e ritornare safely, dobbiamo risolvere alcuni problemi. Un astronauta che sta fuori sulla stazione spaziale per sei mesi perde il 9% di calcio nelle ossa. Va in osteoporosi. L'astronauta che sta sulla stazione spaziale per sei mesi perde il 30% di massima contrazione volontaria. Quindi va in atrofia muscolare. E quindi se noi mandiamo degli astronauti su Marte, siamo bravi a farlo, ci riusciamo, il problema è che per andare e tornare ci vogliono circa 500 giorni. E in questi 500 giorni l'assenza di gravità crea sicuramente questi problemi piuttosto grossi agli astronauti. E allora che senso ha oggi spendere centinaia di milioni di euro per alimentare una base di calcio come è la stazione spaziale, circa un campo di calcio, con dei razzi minuscoli che vanno su e giù ogni tre mesi, il 19 ne parte un altro. E che senso ha questo? Il senso è che gli astronauti in totale sono circa 100, più o meno, attivi in questo momento. Se noi risolviamo il problema di questi 100 astronauti e astronaute, se risolviamo il loro problema di osteoporosi e di atrofia muscolare che si sviluppa stando in assenza di gravità, se risolviamo il problema loro, abbiamo risolto il problema del 50% della popolazione femminile sul nostro pianeta. E non è poco. Vale la pena. Vale sicuramente la pena. E quindi dobbiamo affrontare questi problemi per affrontare gli stessi problemi sulla Terra. C'è un paradigma che si chiama paradigma pastacaldi-zolesi, pastacaldi è microchirurgo della mano a Pisa, con il quale abbiamo fatto parecchia sperimentazione, e dice che la stazione spaziale è un ambiente disabilitante per persone normali. La Terra è un ambiente normale per persone disabili. Allora se io alcuni protocolli che utilizzo sulla stazione spaziale e su persone che diventano invalide man mano che passa il tempo, se prendo questi protocolli e li ripeto a Terra, sicuramente questo mi aiuta a risolvere dei problemi e può aiutarci a far sì che andare su Marte e ritornare sia davvero possibile. La permanenza all'esterno della nostra casa, all'esterno della Terra, già in orbita lunare, è affetta da due aspetti abbastanza importanti. uno è questo del cambiamento dei nostri processi metabolici. Sostanzialmente, se gli osteoclasti, che sono gli spazzini del nostro calcio, lavorano di più di quanto facciano gli osteoblasti, che sono quelli che prendono il calcio e lo fissano dentro le trabecole, se questo accade, e io nello spazio sto cercando di capire perché, ho risolto il problema con dispositivi fisici, farmacologici, di diete e così via, riesco probabilmente a rendermi conto perché. E questo è un aspetto. Quindi all'astronauta faccio fare tanta bicicletta, tutti i giorni, un'ora al giorno. Gli osteoblasti devono essere convinti che devono continuare a fare il loro mestiere e non dire, eh ma non c'è gravità, perché mi sto a dannare a ricostruire? Non serve, il peso non lo sento. E quindi potremmo ingannare queste nostre piccole cellule che fanno questo mestiere. Più difficile, più complesso è ingannare il nostro organismo dal fatto che nello spazio, non essendoci le fasce di Van Allen che proteggono la Terra, le radiazioni arrivano e sono anche pesanti. e quindi mi metto una camicia di piombo o faccio una schermatura alla stazione spaziale, ma poi ho bisogno di più energia, mi complica una vita. E quindi oggi si sta, la ricerca, si sta concentrando sul fatto che possiamo trovare, soprattutto per produrre cibo, possiamo trovare delle mutazioni che sono poco sensibili alle radiazioni. E questo è un percorso estremamente interessante e estremamente importante, anche perché ha dei riflessi qui sulla Terra. Quindi se noi affrontiamo questi due problemi, sicuramente risolviamo il problema agli astronauti, ma risolviamo diversi problemi sulla Terra. Vi do una brevissima carrellata. L'azienda nasce a Livorno nel 1986, io ero un consulente freelance, oltre che insegnare consulente freelance negli Stati Uniti, ero lo specialista europeo di capsule russe, sapevo come funzionano, quali sono i loro comandi. E quando l'Agenzia Spaziale Europea ha fatto il primo esperimento con i russi, mi hanno chiamato per dare una mano. Era il 1988, dopo tre anni, dopo quattro anni, il primo lancio. E da allora, ho creduto di aver partecipato a 55 missioni spaziali, con 85 esperimenti di tipo diverso, soprattutto nel campo della biologia e della fisiologia umana. Sono i due aspetti che sono appunto oggi considerati più importanti. e attualmente sapete che c'è un'astronauta italiana, Samantha Cristoforetti. Samantha sta sei mesi su, ha dieci esperimenti italiani, sono coordinati tutti dalla nostra azienda. e il nostro compito è anche di seguirla, di addestrarla, di seguirla durante le procedure e così via. Quindi è una donna eccezionale, è davvero un piacere lavorare con lei. La sentiamo quasi tutti i giorni, perché siamo in console, da Livorno, via Huntsville, via Houston, via Fuscino, via Stazione Spaziale. Siamo in collegamento H24 con la Stazione Spaziale. Dal Livorno possiamo dare i comandi, dal Livorno riceviamo i dati e li distribuiamo a tutti gli scienziati che lavorano con noi. Questo è un vanto, il vanto di 60 persone tra biologi, elettronici, softwareisti, meccanici, strutturali, con nazionalità argentina, cinese, vietnamita, rumena, svedese. Formiamo un team, una squadra, della quale sono orgoglioso. Quando all'esame di economia aziendale, a ingegneria, mi insegnarono che un'azienda è un insieme di uomini, persone e capitali, mezzi, capitali, persone. Ma i più importanti, ciò che è davvero la ricchezza dell'azienda, sono le persone che sono all'interno. grazie. Grazie a tutti.